Primi tre punti nel campionato di Serie D con una vittoria ottenuta in trasferta, così l'Ebolitana ha scacciato il fantasma delle due sconfitte in altrettante gare. Ci siamo davvero levati un peso, ammette il di essere a Montaglianetti, perché per noi stava diventando, soprattutto mentalmente, un problema, particolarmente nell'approccio alla gara da disputare. Ora abbiamo ritrovato morale e siamo più sereni e ulteriormente consci che siamo una buona squadra. Il direttore sportivo Biancoazzurro si dice fiducioso nello staff tecnico e nella compagine allestita, in grado di agguantare senza sforzi la salvezza. Nel frattempo, questa mattina, il team di Nastri ha ripreso la preparazione allo stadio di Irseu, in vista della gara casalinga di domenica con la San Cataldese. Prevista inoltre per giovedì pomeriggio ad Eboli un amichevole con la piccola militante in eccellenza.